Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di RumbleStars Arriviamo a 300 like, condividere il video, iscrivetevi al canale del segnale Nel hashtag RumbleStars che ho sotto i momenti per ricevere un cuoricino E andiamo avanti con questa nuova puntata ragazzi Oggi andiamo intanto a provare una carta che deve uscire nuova tra 5 giorni circa Che è il pesce palla appiccicoso I Rambler gli si attaccano sopra e lui si attacca alle pareti Ottimo metodo per spostare compagni e avversari Non lo so gestire e sicuramente andrò a perdere tutte le partite che andiamo a fare Perché andiamo a provarlo su sfilata di pesci palla Non sono sicuro neanche di vincerne una Andiamo direttamente in gioco e proviamo Ok, allora io metterei subito Panda all'angolo e Cagnolino dall'altra parte E allontaniamo il suo Panda E ce la facciamo Ok Allora proviamo Oh, già abbiamo fatto un gol Ah, in quella maniera sposta proprio tutti Anche il team avversario Interessante Oh, dai fallo un altro gol Stai là, dai fallo un gol Dai, 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 che ci sei Ma perché se la stanno passata tra Cagnolini? Non so se l'avete visto ragazzi Che cosa sbagliata e ambigua è successa là davanti Allora, posso fare così a sto punto, vero? Mi trascino sia la palla che il Panda Il Panda sta... Eccolo, il gol di Panda E lui ha fatto la stessa cosa ma nel momento sbagliato E mi ha creato una porta di Panda Grazie Lei è stato quasi gentile Possiamo dire Allora, diamo una botta a quello Aia Quella l'ho sentita Però ho tirato il Panda nella stessa direzione del cane Oh, gol Miracolo Wow Ok, molto simpatico Reclamiamo i nostri oro 25 Se proseguiamo Miki Contro un certo Miki Vai, così Non abbiamo il Panda Quindi è l'unica solution Che ci abbiamo Cagnolino sta là davanti Io potrei utilizzare questo maledetto Per spostare quest'altro maledetto Ok Abbiamo trascinato il Panda Dalla sua parte Quindi l'abbiamo levato dalle scatole No, prendo il pallone E lo sapevo io Io non volevo prendere il pallone, raga Mio scopo era Attirare tutti di là In questa maniera Attirando tutti di là C'è più probabilità Che anche uno dei miei Panda Vada di là, capito? Eh, diamine Guardali, guardali, eh Oh, trascinamento Boom E il bello è che facendo così Si ammucchiano pure Quindi se non mi fanno Lo sbaglio Posso uccidere Ecco qua Lo sbaglio l'ha fatto Il cagnolino Va bene così A mio parere E E Che volevi fa? Bene così Eh no Eh no Quel Panda È fastidioso là davanti Anche perché abbiamo il cane Che è scemo Quindi il cane scemo Fa vincere il Panda avversario Allora Eh, dovrei Oh Fare così Guarda, guarda, guarda Come attiro tutto Tutto laggiù sta Sta tutto laggiù Boom Ok, quasi eliminato Bam Ok Questa è una situazione Un po' problematica Per vari motivi Perché io non c'ho il Panda Da questo lato E lui c'ha il cane Da quel lato Quindi vuol dire Che se non riesco a passarla Me lo fa lui il gol Bam Ok, Panda sta lì Uh, quasi gol Che c'è mancato, regà Che c'è mancato lì Veramente Che c'è mancato lì Ok Vai Vai che lì Oh dai, non ci credo Fallo il gol Bravo Panda Bravo Panda E adesso Una bella bottarella lì Gliela diamo E tiriamo Un bel cagnolino Da quel lato Anzi, un bel Panda Da quel lato Potremmo anche provare Una cosa strana No, non l'ha preso, regà Lo devo allontanare a mano Col cane Ok Cane col cane Uh, il Panda sta lì Il mio Proviamo ad allontanare tutto Perché ormai abbiamo il vantaggio Della partita Quindi se riusciamo ad allontanarli Abbiamo ugualmente vinto Tipo così No, ho sbagliato Eh, oh Che c'è mancato Che faceva Gol Io li spingo tutti via Ok Guarda là tutti appiccicati alla sua Al suo pesce palla, regà Al contrario Ok Spingiamo il pesce palla E portiamo via tutti Oh Che figo Allora È molto difficile da gestire Come situazione Quella dell'iper pesce palla appiccicoso Là Però è divertente Perché vedi tutti Compresi i suoi E i tuoi Andare ad appiccicarsi Dove c'è il pesce palla Quindi è molto divertente Vittoria 1-0 Oh, che bello Due vittorie È un miracolo Contro il Miki Grazie Reclama Panda pigrone Guarda caso Andiamo a farne un'altra Assolutamente Proviamo così A secchissimo Oh No, non ci credo, regà Non ci credo Quel gol non esiste Quel gol non può esistere Oh, oh Ha usato pesce palla Allora io farei così Boom Eh, però ho preso il re Allora potrei Vabbè, tanto lui la passa Quello sbagliato Non è vero Ah, peccato Non ha fatto gol Peccato Peccato Allora potrei Azzardare un'azione Ma non penso funzioni L'ho tirata male Boom Forse non l'ho tirata Così male Il mio avversario Mi sa che si è fermato Mi sa, eh Sì, si è fermato Regà Non sta a giocare Non sta a giocare Si è fermato del tutto Dai Niente Mi è uscita male Però Mi è uscita bene Mi piace Mi piace Ok, dai Abbiamo fatte tre già vinte Regà Miracolo Che cosa sta succedendo Non sono io questo E abbiamo ancora tanto tempo Wow Contro l'italiano Grid Stefano Allora Grid Stefano Io ci ho provato a spingere Eh, non so riuscire a fare La stessa cosa di prima Però Ok Vorrei rischiarmela Con il pesce palla E portare tutti insieme Verso la porta Ok Abbiamo creato un macello Là davanti E faccio anche un boom Ad aria Il problema è che lui Mi ha messo il panda Là Allora Per fortuna Il butta fuori Tira solo botte E non Attacca Perché se no era un guaio Allora Io allontano tutti Se ce la faccio E faccio questo gioco strano Eh, no Mi si è fermata Perché mi ha tirato la palla Davanti Per passarmela E quindi Ha creato un problema Oh, 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 oh Palla di fuoco vista Molto pericolosa Allora Rispingiamo tutti Dalla sua parte Tranne un panda Che è qua davanti Che potrebbe crearci Seri problemi Infatti ce li sta creando Va benissimo Qui Ok Allora Dobbiamo fare le diagonali E dobbiamo farglieli andare Le diagonali Tutto e tutto E quello è il problema Far andare le diagonali Con tutta quella protezione Che si è formata Alla davanti È un po' Un vero problema Allora Dovrei sperare Che il mio portiere La passa Nella direzione giusta No, te pare Allora Io potrei anche fare così Per spostare un po' Le acque Perfetto Oh Oh Pem Non ho nulla Per tirare in porta E questo è il problema Principale Eh niente Ma fregato Perché mi ha counterato Il panda In pratica Allora Tiro una spinta al panda Per avvicinarlo un po' Justamente Stava troppo indietro Oh 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 Ci ha provato Pem Ok Non ho più un panda Per attaccare No La passata è indietro Regà La passata è indietro No qua potevo usare pesce palla Ed allontanare direttamente Il suo panda Eh quello che ve lo fai io Mi hai fregato la mossa Grazie Allora No Ho sbagliato tecnica Perché il panda Rimasto là Il suo Ok Ho provato a tirare a dritto Ma giustamente Non è che può riuscire così Scuso ma No No Me l'ha fatto Lo so fatto fregare Come in cretinotto Regà Ok proviamo A portarci via tutti E a tirare Il pallone là Anche perché Là c'era un panda Pem Ok Spostiamo tutti Di nuovo Ok Ho sbagliato Andiamo bene Va bene così Sta succedendo Un macello Là davanti Eh no Cagnolino doppio Loro Proteggerà il mondo Lo so Eh niente No Altro cagnolino Eh no Me lo fa il gold Alla dai Ha vinto lui Vabbè dai Una persa Dai una Per una Si può fare No Dai Facciamone un'altra E poi ci salutiamo Ragazzi Stiamo provando Questo pesce palla Che è strano Da gestire Lo dobbiamo provare Alla grande Ok Mi è andata bene La posizione Anche se l'ho fatta Al contrario Bam Ok Oh panda sta là Panda sta là Ma non fa il gol Come giusto che sia Te pare che ci fa il gol Il panda così Bam Sciottone Non è vero Ci è mancato poco però Lo sciottone Lo sciottone è buono Perché se leviamo Il portiere Abbiamo più probabilità Di fare actions No perché l'ha passata Indietro regà Non lo spiegate No non l'ho capita Dovrebbe succedere così Ok Gli abbiamo levato Quello Vai Passagliela Dritto niente Justamente Non è scemo Vabbè vabbè Aia Ma fregato Oh È rientrato Il suo Allora Ho una situazione Un po' di pressione Quindi potrei provare Niente Non ho tirato nessuno Mi è piaciuta sta cosa Mi è piaciuta tantissimo Ma perché No regà La riga Quando l'ho tirata Era che arrivava Fino giù Poi invece ha preso il panda Non comprendo Queste logiche Contorte Del gioco Eh Mo Dove andiamo Da nessuna parte Perché Ah Ah Situazione bruttissima Ce l'ho tutti qua Regà Stanno ammucchiati C'ho il panda Dentro la porta Regà C'ho il panda Dentro la porta No No Ma anche no Sto unguagliato Regà Sto unguagliato Ma Ma Non mi ha fregato Se è proprio Trascinato Dentro alla porta mia Ok Eh niente Che gli dico qua Ho una situazione Sbagliata Molto Sbagliata Però posso provare Una cosa strana Che no L'ho sbagliata Precaria Precaria Ando un po' Per pusciare Si sono impazziti I miei cani Regà Ok Potrei rischiarmela In questa maniera Molto Ambigua Boom Ho fatto un boom Di quelli Che cacchio è successo Lì Non c'è il portiere Non c'era il portiere Regà No Non farò mai Il gol Da questa posizione Neanche volendolo Regà Oh aspetta Un panda c'è Però adesso No Me lo so Counterato da solo Eccolo Si Vai così Ci piace Ok È andata più che bene Oggi Posso accontentarmi così Abbiamo provato Questo pesce palla Molto interessante Una carta molto particolare Utilizzatela Provatela Perché effettivamente È molto divertente Anche da utilizzare Perché È un utilizzo Comodo Sia per difendersi Che per attaccare Da un punto di vista E per spostare addirittura Il re Perché se riuscite a appiccicarlo Lo spostare un po' a destra Non si può Muove Quindi poter fare gol Più facile Va bene ragazzi Rendiamo a 300 like Condividere i video Iscrivetevi al canale Se noi Lascia l'hashtag RumbleStars Qua sotto nei commenti Vi ricevere un cuoricino E ci vediamo nel prossimo video